La settimana scorsa siamo stati nei box del team Rosmar Ghinzani. Adesso lo stesso team ci porta in pista. Andiamo! L'autodromo nazionale di Monza è il terzo circuito permanente più antico al mondo, dopo quello di Brooklands e Indianapolis. Lunghezza 5.793 metri, 11 curve e fu inaugurato nel 1922. E proprio sul circuito di Monza fra poco avrà inizio gara 1 del Carrera Porsche Cup 2018. Tutti nei box si danno da fare con gli ultimi preparativi. I piloti sono quasi pronti e quando mancano 30 minuti alla partenza, le auto vengono schierate in fila davanti ai box. Una gara che dura 28 minuti più un giro. 22 auto sulla griglia di partenza e 22 piloti che spingono al massimo le loro Porsche. Un campionato unico e spettacolare. Gara finita, sono con Luca. Luca raccontami cosa è successo. Sono partito a tredicesimo, i primi giri sono successi un po' di casino davanti. Ho cercato di stare lontano dai problemi, ci sono riuscito e alla fine dai, un buon sesto posto. Adesso vediamo con le penalità. sono già a quinto, ma adesso vediamo se danno ancora qualcosa. Hai dato veramente tutto il gas che avevi? Sì, sì, ci ho provato. Ne avevo un pelo, però dai, lo tengo per domani. Ok, grande. Grazie Luca. Vi avevo promesso 90 secondi a tutto gas, a tutta velocità. E così è stata. Un box fantastico, una gara fantastica, emozione pura. Alla prossima. 90 secondi a tutto gas e start.